Sì, resilienza per noi è una parola fondamentale, Conor ne ha parlato tanto questo raduno già da gennaio e sicuramente questa settimana dobbiamo essere resilienti dopo la sconfitta contro l'Inghilterra e ritornare in campo e mostrare che siamo una grande squadra e fare un bel risultato questo weekend contro l'Irlanda. Sì, la linea di tre quarti è sempre la stessa e secondo me abbiamo lavorato bene la settimana scorsa soprattutto in attacco con Minozzi che ha fatto delle belle azioni, anche i tre Tommasi, quindi era una bella prestazione in attacco, ovviamente a difesa abbiamo lavorato ancora un po' di più, però l'abbiamo fatto questa settimana e sì ci sono un po' di cambiamenti con gli avanti, però sì, ogni giocatore può portare qualcosa di diverso in partita e secondo me i cambiamenti che ha fatto sono buoni per questo weekend.